Napoli. Chiamerei alla regia le immagini di questo incontro. Eccole, vedete il Napoli in maglia azzurra per chi ha il televisore a colori, comunque in maglia scura e pantaloncini bianchi, la Juventus nella classica casacca bianco-nera che non fa distinzione tra colore e teleschermi un bianco in maglia. Vediamo un fallo, c'è stato un fallo contro la Juventus, ai danni di Chiaruggi mi pare, no ai danni di Massa scusate. Vedete Furino davanti al pallone, alla fascia di Capitano, la chiamano la Juventus baby, ma in effetti ci sono almeno 4 giocatori della Juventus che hanno oltre 33-34 anni. Vediamo la conclusione di questa azione, se il Napoli riuscirà a concluderla, ecco Chiaruggi, il tiro e la palla termina in alto. È tutto da Torino, concludiamo.